salve a tutti sono micweb sono qui di nuovo con un nuovo tutorial sarà semplice banale ma oggi voglio spiegare come configurare apple mail apriamo il nostro apple mail qui abbiamo già pre configurati andiamo altro account email continua metto qui il mio indirizzo email tutorial chiocciola micweb punto info la password adesso accedo aspetto un attimino ho sbagliato a mettere la password qui nome utente nome utente è l'indirizzo email è importante tutorial chiocciola micweb punto info tipo d'account io preferisco sempre imap servizio di posto d'entrata dipende dal vostro gestore di emails nel mio caso imap chiocciola chiocciola punto strato punto d serva di uscita di solito sempre smtp nel mio caso appunto mio gestore la strato quindi metto smt punto salve accedo attendo attendo ancora un attimino vediamo se ho configurato tutto perfettamente a questo punto si posso selezionare tipo delle app note nome non mi interessa aggiungo solo mail a questo punto ho configurato apple mail però standard apple mail configura la porta 143 e 487 per l'uscita so purtroppo che il mio gestore o meglio per fortuna il mio gestore ha convertito tutto nella conversione criptata quindi dovrò andare sulle preferenze avanzate e cambiare la porta perché imap 143 sul mio gestore non funziona importante usa ssl devo digitare il numero della porta in questo caso è 993 vado avanti vediamo qui ho configurato tutto quanto si mi sembra di sì informazione dell'account vado a digitare il serva di posta modifico l'elenco c'è solo questo e anche qui vado sulle avanzate e cambio la porta la porta è la 465 autentificazione è password nome utente password ok adesso controllo di nuovo a ecco qui non mi ha un errore tipico che succede molte volte la porta non è stata salvata adesso vedo controllo di nuovo appunto come dicevo la porta autentificazione password devo cliccare da un'altra parte ecco qui altre postazioni la porta l'ha presa generale salviamo ok a questo punto ho configurato l'indirizzo email su apple mail con servizio di posta esterna mi provo a scrivere una mi provo a scrivere un'email vediamo se funziona me la scrivo a me stesso già che sono vi spiego anche la differenza tra imap e pop 3 un attimo che intanto mi mando un email attendo ci piega qualche momento attendo tanto vi spiego la differenza imap tendenzialmente lo preferisco volentieri a ecco qui la mail è arrivata quindi ho configurato il tutto giusto imap la preferisco a pop 3 perchè imap mi permette la possibilità di sincronizzare l'email con il mio telefonino con un altro computer e posso leggere l'email ovunque io sia si può fare anche con pop 3 ma è un po più complicato pop 3 invece è un protocollo che scarica direttamente tutte le emails cosa succede molte volte il computer si rompe l'hard disk è rotto se avete un pop 3 la maggior parte delle volte perdete tutte le emails perchè pop 3 standard scarica le emails dal server originario che vuol dire che avete le emails e le emails salvate sul vostro computer e non le potete sincronizzare sul telefono se avete due lo stesso indirizzo email lo avete qui sul computer o anche sul telefonino se ricevete un email sul telefonino viene scaricato sul telefonino arrivate a casa e sta mail qui non la vedete perchè immagino avete configurato pop 3 quindi a mio parere imap è il miglior metodo per leggere le emails praticamente ho le email sul mio computer sul mio telefono sul mio tablet l'unico svantaggio è che tutti i gestori di email ti danno o vi danno un spazio limitato di capacità per le emails in teoria sono tra i 2 e i 5 gigabyte di spazio quindi dopo se vi mandate tanti emails dopo un paio di mesi avete lo spazio e la casella di posta piena e non riuscirete più a mandare le emails questo è un svantaggio dell'imap l'unica cosa che rimane da fare è quando notate che qualcosa non funziona non è cancellare i mails vecchi che non vi servono più vi ricordo anche che email non è un servizio per mandare grosse quantità di dati una foto qui e la va bene ma se incominciate a mandarvi il video è un documento pdf di 10, 20, 30 megabyte una volta o due va bene non è un problema ma se lo fate spesso rischiate veramente di intasare la vostra casella imap questo è lo svantaggio dell'imap che avete uno spazio limitato a seconda del gestore che avete e se vi mandate tante immagini o tanti video o insomma dati di una certa dimensione rischiate dopo qualche mese di avere la casella intasata quindi dovete scegliere voi cosa vi va meglio imap con il rischio un po' di avere la casella che non vi funziona perchè è troppo intasata in quel caso le mails vengono respinte oppure pop3 scaricando tutte le mails sul vostro computer con il rischio che appunto se avete un crash del computer le mails sono perse bene vi ringrazio per questa volta ci vediamo alla prossima con un altro interessante tutorial riguardo apple mail ciao